Buongiorno cari amici, ben ritrovati, siamo ancora noi e vi porteremo in giro per il nostro benamato Salento. Oggi faremo una capatina costeggiando il mare e vi porteremo a visitare la torre Nasparo, una torre molto antica in agroditigiana. Pensate che da questa torre si riusciva una volta a vedere Roberto Lapunta? Il capo d'Otranto. Quindi una torre che a suo tempo ha avuto un spazio importante. Poi continueremo il nostro viaggio ovviamente e vi porteremo a visitare la Guardiola, una stupenda, splendida località in marina di Corzano. Va bene, noi andiamo, seguiteci! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!